La Lega si slega, grammaticalmente si chiama ossimoro e invece politicamente si chiama caos perché in realtà siamo... ti stai dicendo... eri nudo? No, parlavi della Lega. Allora, siamo venuti in Italia, il caos della Lega non a caso sta a dimostrare il caos dei bot, dei CCT, della situazione politica, di un governo fatto di tecnici che io non credo poi tanto tecnici, di spread che è risalito vertiginosamente e io voglio parlare con Lucianino Imbriani degli Stati Uniti perché lui è tornato ora dagli Stati Uniti ma lui non va negli Stati Uniti come turista, ci va come abitante e questo è importante perché lui trattenendosi lunghi periodi dell'anno e può analizzare il tessuto della vita americana fatta di uomini comuni come noi, di giornalisti, di idraulici, di impiegati, no? Sì, è vero, è vero tutto questo. Poi io devo dire la verità, quando sento il nome America mi vengono in mente le stelle però dopo giustamente tornando in Italia mi riviene in mente anche le strisce. Allora, siccome loro hanno avuto una crisi come noi, come mai loro sembra che l'abbiano superata? Che cosa fanno per questa crisi rispetto a noi? Allora, dovessi parlare seriamente, dovessi parlare seriamente, il che non avviene. Ma però tentaci, dai. È difficilissimo perché anche a scuola me lo dicevano. Allora, l'America è totalmente differente da noi. Primo per le stelle e le strisce, ci sono tanti colori, noi solo tre. Però da noi ce le fanno vedere di tutti i colori. Quello che devo dire è che il popolo americano è totalmente differente. Parlando seriamente, io ho conosciuto una persona nel 1993 che era un operaio. Questa è una storia vera però. In tante volte che mi avete detto che si chiama Sergio Petruzzella, originario di Molfetta. Italiano. Italiano, americano. Sì, è andato lui là a 14 anni. Quando lo conobbi nel 1993 era un operaio. Un piastrellista in un'azienda. Non sto a dire come tante cose. Cioè, lui veniva a lavorare da me il sabato e la domenica. Lavorava, mi rimetteva a posto le cose. Veniva alle otto e andava via a mezzanotte. Col tempo questo qui è diventato un impresario. Ha avuto dei dipendenti. Ha avuto un matrimonio con un'americana che gli è costato una cifra nella separazione. È ripartito di nuovo. Ha avuto sei o sette dipendenti. Il massimo mi sembra che abbia avuto lui con lo zio con sei dipendenti. Nel momento della crisi, che l'ho dovuto chiamare per alcuni lavori e alcune cose fatte, sono tornati lui e lo zio, si sono rimessi in paracinocchi, hanno iniziato a rimettere piastelle e tutto, eccetera, eccetera. E la moglie, che stavano bene, è andata a servizio. Cioè, hanno un modo di vedere la vita totalmente differente. Oggi, che l'ho visto a marzo, che il lavoro gli ha un pochino ripreso, ha di nuovo un dipendente. Cioè, Luciano vuole dire che la mentalità americana porta a capire che nei momenti bruttici si deve sacrificare e quello che si è acquisito si può perdere, giusto? In America, sì. In America ti parla anche il lavoro, perché il lavoro ce l'hai e dalla sera alla mattina ti mandano via. In America puoi perdere tante cose. Però in America i politici non rubano come da noi. Allora, diciamo una cosa. In America... Quindi l'esempio è un po' migliore. Sì, è un po' migliore. Innanzitutto il denaro è una cosa sacra. Le tasse sono una cosa sacra, perché poi la storia ci insegna dal Capone a Ciongotti negli anni 90 come sono stati loro... Al Capone a Ciongotti sono stati incarcerati grazie all'evasione fiscale. Non riuscivano a dimostrare gli omicidi. E quello. Sicché sono cose veramente importanti per loro. Da noi è... Ah, ecco, stavo dicendo questo. Giustamente i politici rubano anche in America la delinquenza. Ci sono tutte le cose normali che sono in tutti i paesi del mondo. C'è una differenza sostanziale, però, che quando vengono presi... Capito? Cioè in America due giornalisti hanno sputtanato un Presidente della Repubblica. Da noi due giornalisti che si permettono di indagare su un consigliere regionale corrotto, dopo dieci giorni sono fuori dal giornale. E' vero questo, è tutto vero. E poi oggi veramente... Qui si stanno in Monti, il signor Monti per ora ci fa vedere. Il mare non so quando si potrà vedere, ma in questo modo non si può andare avanti. Allora io... Onestamente parlando. Ora si può ritornare anche a Luciano... Beh, mi è venuta una battuta per chiudere, stupenda. Sì, però io ora... Cioè, questa è un'intervista quasi seria che non è nella mia immagine. Si torna a fare i scemi un'altra volta. Bravo. Ciudiamo con una immagine così. Signori, attenzione, perché non pensiate che la passione sia finita sul Calvario l'altra sera? Altri Monti ci aspettano. Altri Monti? Peggio dei Monti. Monti erano... Monti, tre Monti, Monti, Monti... Non l'è capita. No, non l'ho capita anche perché quando io faccio il serio asciacassi che non riesce a capire niente. Io devo tornare a me stesso. Torno quando si fa l'imbecillo. Bravo, quando si fa l'imbecillo... Oh, va via, va via, va via! Non mi ricordo. Basta, è finito. Ah, non riprendami, peccato.